Firmati che svegliamo tutto il palazzo. Questa è mia figlia Lisa. Che nome ti piacerebbe per tuo fratello? Ricky. Hai un fidanzatino che si chiama Ricky? Non ho un fidanzatino. Devo dire che vostro figlio è un caso molto affascinante per la scienza. Mamma, guarda! Abbiamo pensato di tenere Ricky sotto osservazione per... Non se ne parla. Lo porto a casa con me. Cosa succederà a Ricky? Un giorno potrà volare. Dovrà prima camminare. Fatto. Contento ora? Ricky! Aspetta, Ricky! Torna qua! Vorrei anche io un bambino telecomandato. Per me sono alcune domande. Riprendi, riprendi! Pensavo che potremmo trovare un accordo con quei giornalisti. È per i soldi? È per noi. Per Ricky. E per Lisa. Giratevi! Vi facendo vedere! Di qua! Di qua! Amore mio, non essere arrabbiato. Ti volevo abbandonare. Ma eri così bello quando volavi. Amore mio, non è così bello quando volavi. Amore mio, non è così bello quando volavi. Di qua!